Ben trovati, Avellino Città Servizi, la partecipata oggetto dell'inchiesta posta in essere della Procura della Repubblica che ha condotto alla tempesta giudiziaria abbattutasi su Avellino nella mattinata di ieri, non era nient'altro che un collettore di contatti e un distributore di favori, una serie di intercettazioni telefoniche ci restituiscono un quadro ancora più desolante di quello che abbiamo descritto ieri mattina. Gabrielli viene colto dalle intercettazioni in discussioni con l'ex senatore De Luca che nulla c'entra con la questione giudiziaria ma che come tutti ricorderete è stato candidato alle ultime regionali. De Luca chiedeva a Gabrielli la certezza del pieno appoggio di Avellino Città Servizi dell'azienda e veniva assolutamente rassicurato da Gabrielli che poi in altre telefonate cercava di forzare con determinati interlocutori per ottenere la certezza del consenso nei confronti di De Luca. C'è anche un'altra intercettazione nella quale si evince come Casina del Principe, un'altra struttura pubblica affidata, i cui spazi sono stati affidati al cognato e alla cognata di Gabrielli, è stata utilizzata come sede di cene elettorali promosse da Gabrielli fino ad altre intercettazioni nelle quali si teorizzano strategie per orientare bandi per appalti sfuggendo a quelle che sono le norme della trasparenza. Insomma, un quadro composito, ricco purtroppo di sfumature e di colori anche diversi che però coinvolge direttamente un'intera classe dirigente, quella del Partito Democratico provinciale ma innanzitutto cittadino che a questo punto deve delle risposte alla città.